Un pezzo di bastone qua, guarda. Il gioco si è più difficile. Caffettino. Guarda questa macchina qua dentro. Piamano la spada. Ergarolus glandarius. Un po' di nebbia. Un po' di nebbia. Qui siamano sopra. stiamo iniziando un pezzo del bastone avanti tutta prima tappa salute andiamo bene 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 is it a dog qui siamo siamo nel medio del bambaggia il lato si stia spaventando si stia spaventando ora comincia a piovere e nevica visto frutta quindi mo se mangiamo una cosa e poi torniamo al campo base ve saluto qui 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 vedete qui vedete se viviamo il corpo c'è qui la gabbiotta qui 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 nel burone della morte burone della morte si se si apre non posso Siamo a casa Cupiello. Chiudiamo la porta qua. Chiudiamo la porta per non tirare dentro. Qui c'è il caffettone. Bello callo. Qui c'è il caffettone. E l'ultima volta, il caffettone salva la nostra vita. E oggi il caffettone salva la nostra vita. Il caffettone. Il caffettone salva il caffettone. Guardate che vista. Questa. Questo è il caffettone sul sull'arco. Il caffettone sul sull'arco. Le caffettone sul sull'arco. Le caffettone sul sull'arco. un caffettino andiamo qui finito a spezzerle and we back caffè abbiamo preso ma guarda questa macchina qua dentro andiamo abbiamo la spada la posso andiamo qui è il track of the wild animal traccia di animali selvaggi mani selvaggici ho paura vedete o o o o Sì 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 Qui c'è un'altra cabina del telefono Sì Qui c'è una cabina Qui c'è la grande cabina Qui c'è un'altra cabina Qui c'è la cabina Qui c'è una cabina Qui c'è una cabina Qui c'è una cabina non c'è un po' il costo Ergarolus glandarius vediamo pure uccelli, c'hanno già necchio ancora, davvero, pure uccelli qua due gatti Pier, qui al volso del bazooka c'è il bombolotto qui qui andiamo al bazooka, già torniamo ora il cibo sta diventando migliore prima si è diventato peggio per due giorni è finito siamo arrivati, siamo quasi arrivati alla base ci vediamo al prossimo video passo e chiudo ciao ciao ciao